Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus, ben ritrovati sul mio canale YouTube, oggi parliamo di una tematica che non mi aspettavo di dover discutere insieme a voi perché mi ero preparato un altro tipo di contenuto e vediamo se fate i bravi magari ve lo porto nel pomeriggio ma nel tardo pomeriggio perché alle 14 ci vediamo su Twitch, siamo in live su BoboTV Channel con doppio passo e avremo un bel palinsesto, bello ricco per affrontare una giornata di Serie A che si rivela bella essere interessante già dalla preview e dato che si giocherà tra sabato prima di Pasqua e lunedì di Pasquetta bisogna anche rimanere concentrati e fare il punto della situazione perché domani sarà già giorno pre partita, questa pausa nazionale sembra durare da 15-20 anni una roba del genere come ogni volta delle pause nazionali e quindi magari quell'altro contenuto che lo considero anche abbastanza importante lo rivedremo nel pomeriggio. Però oggi dobbiamo parlare appunto di un argomento che mi sembrava distante e invece quando stamattina ho fatto un po' di resoconto perché faccio una sorta di mini rassegna stampa per capire quelle che sono le notizie dei quotidiani sportivi in uscita nel giorno in cui vado poi a creare i contenuti ci sono rimasto male perché sia Tutto Sport sia Gazzetta dello Sport andava in una direzione, ragionare in ottica Juve per quanto riguarda potenziali cessioni. E dato che sappiamo che spesso e volentieri quello che leggiamo sui giornali sono cose che derivano direttamente dalla società mi ha scattato una sorta di campanello d'allarme e ho pensato ma non è che c'è veramente intenzione di cedere dei giocatori come Bremer o Wisen per cercare poi tramite questi di fare una sorta di calciomercato differente? Parto dal presupposto che mi dispiacerebbe vendere sia Bremer che Wisen Non sono giocatori che in questo momento vedo trasferibili per la Juventus, sono due giocatori per motivazioni diverse che secondo me saranno destinati a far parte della Juventus che verrà. Wisen perché è il rampa di lancio ed è un prodotto della Juventus che è andata a scovare quando ancora era in tenera età e ancora non si era approcciato e affacciato al calcio dei grandi. Bremer perché invece è stato un giocatore comprato, fatto, finito di quelli che vai a prendere anche a suon di milioni perché non dimentichiamoci che la Juventus per bloccare Bremer e soffiarlo all'Inter va a investire una sorta di cifra intorno ai 50 milioni di euro e quindi stiamo parlando di un giocatore che è stato comprato con una sorta di valorizzazione già in atto. Ecco, Bremer credo che sia uno di quelli che si salva in questi due anni di Juventus per prestazioni, per spirito, anche banalmente per approccio alle gare. E' uno di quei giocatori che mi piacerebbe trattenere. E allora mi sono detto, perché due quotidiani parlano di questa uscita di Bremer? Beh, perché oggi si parlava di una clausola, una fantomatica clausola, una recessoria su Bremer intorno ai 60 milioni di euro e che quindi poteva essere un giocatore appetibile per quanto riguarda i club esteri, i Premier League su tutti i Manchester United. Ora, fermo restando che il Manchester United è uno di quei club da cui mi aspetto che possa andare a tirar fuori 60-70 milioni di euro per pagare la clausola recessoria di un calciatore come Bremer, una cosa che mi aspetto, non ero particolarmente convinto dell'esistenza di questa clausola recessoria. Fino a che, a metà mattina, abbiamo avuto degli aggiornamenti importanti da alcuni dei giornalisti che sono più affidabili lato calciomercato e lato Juventus. Il primo, il mio amico Romeo Agresti, che conferma l'esistenza di questa clausola, un range di valore tra i 60 e i 70 milioni di euro per Bremer. Quindi, poco più rispetto a quella che è la cifra sborsata dalla Juventus nel momento dell'acquisto del giocatore, che è un classe 97, non dobbiamo mai dimenticarcela, questa cosa qui. Quindi, è un giocatore che è nel top dei suoi anni per quanto riguarda il rendimento fisico, che avrà altri 4, 5, 6 anni di assoluto livello e poi inizierà questa sorta di discesa, come naturale che sia, come fisiologica che sia, una cosa che viene risparmiata a veramente pochi atleti. Poi, magari, Bremer è uno di questi perché è uno che comunque cura particolarmente il suo corpo, il suo fisico e mi sembra anche uno che, a livello mentale, è ben stabile con una famiglia, sta bene, la città di Torino la vive da anni e anni e quindi mi sembra un giocatore super affidabile, Bremer, da questo punto di vista. Quindi potrebbe anche avere più anni di carriera davanti rispetto a quello che potrebbe essere lo standard di tanti atleti, di tanti calciatori professionisti di oggi. Però Bremer ha questa clausola, confermato, è il secondo giornalista che è arrivato a confermare questa cosa e ha aggiunto un dettaglio e stiamo parlando di Fabrizio Romano, che ormai è internazionale, ormai è una sorta di cassazione per quanto riguarda le trattative e che va ad aggiungere un pezzettino e cioè questa clausola partirà dall'estate 2025 e quindi scatterà nella stagione 2025-2026 e che già quest'estate 2024 c'è una sorta di accordo verbale tra Juventus e Bremer, dovesse arrivare una squadra e dovesse portare questa squadra 60-70 milioni di euro, la Juventus comunque accetterebbe, si metterebbe a sedere per discutere questa cessione che non è ovviamente collegata a una clausola effettiva, però c'è una sorta di accordo sulla parola tra gentiluomini, possiamo dire una roba del genere. Non significa che la Juventus abbia dei legami effettivi per poi cedere il giocatore, però una sorta di gentleman agreement tra Juventus e calciatore. E allora io mi domando per forza di così, come si è arrivati a questo punto? Beh, bisogna ragionare sul fatto che Bremer è uno dei calciatori che guadagna di più nella Juventus, ha un ingaggio importante perché quando si vende d'elite e quando si va su Bremer è una roba talmente veloce che io ricordo veramente era una sera in cui ero a fare una festa con gli amici, mentre torno a casa mi fermo a registrare addirittura per strada questo contenuto su Bremer perché volevo sfruttare la tempistica, dato che si parlava di un Bremer che il giorno dopo sarebbe praticamente diventato un calciatore da Juventus, quindi quando fai delle trattative così veloci devi per forza di cose anche andare molto incontro al giocatore. Bremer però non ha più quell'ingaggio, quell'ingaggio è stato spalmato, anche perché Bremer viene acquistata da una precedente dirigenza sportiva. Era ancora la Juventus di Agnelli, la Juventus di Nedved, la Juventus di Cherubini, la Juventus di Arrivabene, del vecchio CDA, prima di quella che è stato il terremoto societario della Juventus. La nuova dirigenza sportiva della Juve invece vuole trattenere Bremer ma a condizioni differenti e gli chiede quindi di spalmare l'ingaggio, di ridurre l'ingaggio su più stagioni. E quando c'è l'ufficialità del rinnovo di Bremer qualche settimana fa, qualche mese fa, io devo essere sincero, lì per lì mi sono detto, ma in che senso? Perché mai Bremer avrebbe dovuto accettare questa roba? Ora, l'ultimo prolungamento è stato il 27 di dicembre 2023 e oggi il contratto di Bremer è a scadenza 30 di giugno 2028. Quindi Bremer ha deciso di allungare il contratto con la Juve e ridurre la parte relativa all'ingaggio. E quando ci sono queste cose qui, e cioè, sì, accetto anche di guadagnare meno per rimanere qui, per forza di cose da qualche parte bisogna andare a toccare. E quindi immagino che questo sia stato il ragionamento della Juventus. Andiamo a prolungare questo legame, questo contratto lavorativo, sei contento di rimanere la Juve? Bene. Però noi dobbiamo darti di meno, dobbiamo cercare di rientrare all'interno di determinati parametri economici differenti rispetto alla Juventus che ti ha acquistato ed è paranormale, paradossale, di una roba del genere perché è successo un anno e mezzo fa. Però quando cambia le dirigenze, io torno sempre a dire, questo per la Juventus è l'anno zero perché cambia la dirigenza. Che non significa che sia l'anno zero per l'Allegri. Per la Juventus facciamo sempre questo distinguo. Quando arriva Giuntoli inizia un nuovo progetto sportivo. Perché sono i direttori sportivi, sono i dirigenti legati all'area sport che decidono e determinano quelli che sono i progetti sportivi delle squadre. Quindi Bremer ti consideriamo un giocatore imprescindibile, tant'è che vogliamo trattenerti ancora di più, rinnoviamo un contratto, anche se non ce n'era bisogno perché si è appena stato acquistato, diminuiamo la parte relativa all'ingaggio e però qui entra in gioco la volontà di Bremer che ti dice sì, vabbè, d'accordo, però perché dovrei farlo? E allora se lo facciamo va bene, ma è quel ma è accordo verbale già dall'estate 2024 per una cessione di intorno ai 60-70 milioni di euro se dovesse servire e una clausola che si attiverà nel 2025. Io immagino a salire, partirà da 60 nel 2025, magari 65 nel 2026 e poi sarà 70 nel 2027 o magari viceversa, quindi a scalare al contrario. Non lo so, immagino che sia stato fatto un ragionamento di questo tipo. Però la notizia che abbiamo oggi è che la Juventus sì, vuole trattenere Bremer, ma anche allo stesso tempo apre la possibilità di poterlo cedere nell'arco delle prossime stagioni in maniera un po' più elegante venendo incontro al calciatore già da quest'estate e in maniera invece più contrattuale con una clausola dove la Juventus non può nemmeno più intervenire per cercare di far cambiare idea al calciatore, perché se il calciatore accetta la destinazione poi è finita. Significa che la Juventus cederà a Bremer? Ma per quanto mi riguarda no, non credo che sia questo il caso. Però oggi non mi sorprende pensare a una Juve che a quelle cifre fa partire i calciatori. Cioè, un altro esempio è Federico Chiesa, no? Ne abbiamo parlato in queste settimane di Federico Chiesa e vi dicevo ragazzi, se quest'estate arriva una squadra che va a fare un'offerta importante, che la Juventus considera importante per Chiesa e Chiesa è attratto da questa roba qui, non mi sorprenderebbe di vederlo partire perché sono giocatori comunque che sono nel momento clou della loro carriera, a livello contrattuale hanno delle cose un po' delicate, discorsi diversi sono per Ildis, sulle giocatori che devono ancora iniziare questo percorso, devono ancora arrivare anche a guadagnarsi quello status, quel nome che fa dire sì, non è solo una giovane promessa, è qualcosa di più. Bremer e Chiesa sono giocatori nel momento clou delle loro carriere, topico delle loro carriere dove devono dare veramente tutto quello che possono perché poi inizierà quella che è la fase discendente di carriera. Quindi non mi stupisce che la Juventus è su giocatori del 97 come Chiesa, Locatelli, Bremer, 98 come Locatelli o McKennie stesso, forse anche 99, possiamo iniziare a sfiorare pure il 2000 se arriva un'offerta sull'ordine dei 30, 35, 40 a salire, la vado a prendere in considerazione. Non mi stupisce, non mi stupisce perché la Juventus, ce l'hanno detto in tutte le salse deve diventare un progetto autosostenibile e competitivo e come fai ad essere autosostenibile e competitivo quello che hai e arriva un'offerta anche a malincuore lo vendi? Non c'è un altro modo di definire autosostenibile a un certo punto è la macchina che deve funzionare in questo modo quindi dai via Bremer a 50 ma nel frattempo perché sei lungimirante, competitivo e bla 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 hai Wisen in casa che ti sta crescendo e sarà pronto per essere il sostituto di Bremer questo è un po' il meccanismo che mi immagino nella Juventus che verrà nei prossimi anni per questo il prolungamento di Bremer mi aveva fatto sorridere perché sì, ero felicissimo di questa roba qui perché a me Bremer piace e non lo venderei, molto semplicemente, il riassunto è questo qui però capisco che la volontà della Juve sia questa abbassare il monte in gaggi, diventare una realtà che comunque i giocatori poi li va a vendere ma rimane competitiva cercando di costruirsi in casa un po' il futuro ed è per questo che anche il nuovo training center oggi è stato ribattezzato Allianz Training Center, quindi questa volontà della Juventus di spingere sulle squadre giovanili come la primavera, la next gen, le squadre femminili cercare di creare una sorta di polo che possa veramente creare anche la Juve del futuro su Chiesa, nelle ultime ore si sta parlando di un rinnovo di contratto ponte di un anno fino al 2026, per me quella è la soluzione ideale sia per la Juve che per il calciatore perché se si cambierà guida tecnica lì avrai la risposta del ma Chiesa con un altro allenatore e poi valuti ma perché Chiesa deve anche capire che tipo di calciatore è diventato dopo l'infortunio lo devi capire lui in primis penso che questa sia una risposta importante che serve a Federico Chiesa così come è una roba importante che serve la Juventus per capire quanto la può spingersi con un tetto salariale che è destinato a calare, l'abbiamo visto con Bremer ma quando per forza di cose i giocatori vengono incontro a te dall'altra parte la società non può non andare incontro ai calciatori perché sennò loro ti dicono semplicemente perché mai dovrai firmare questo contratto quindi è una notizia che non mi sorprende, devo dirvi la verità e anzi me l'aspettavo e aspettavo soltanto di capire un po' le dinamiche le tempistiche, le valutazioni perché sono rinnoviche o poi magari Bremer firmava semplicemente per amore della maglia per amore della Juventus perché sta bene a Torino sì, rinnova un anno in più, guadagno di meno, fa lo stesso però stiamo parlando ovviamente di professionisti stiamo parlando di persone che lo fanno di mestiere stiamo parlando di un mondo, quello del calcio che comunque è ricco e dove fuori dall'Italia è ancora più ricco e dove Bremer potrebbe aver mercato per andare anche fuori dalla Serie A quindi devo dire la verità tra me l'aspetto e non me l'aspetto nella mia testa era sì, sarà così, speriamo di no ecco questo è un po' il riassunto generale però sono tante discussioni quelle che abbiamo fatto e voglio sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti perché è molto interessante capire se anche secondo voi questo ragionamento che ho fatto fila o se magari a un certo punto va a intorcigliarsi, va a inciampare no, lì Luca fino a lì c'ero, poi dopo no, non va bene lì sono curioso di sapere la vostra e magari ci vediamo nel pomeriggio dopo la live su Twitch per l'altro video oppure al limite domani ma domani è anche già giorno di conferenza stampa e quindi come al solito in queste settimane dobbiamo dire soltanto una cosa all'inizio e al termine dei video forza Juve, anche nel momento più difficile ciao